Un esteso campo di alta pressione, ben strutturato a tutte le quote, interessa gran parte d'Europa, con massimo sull'Europa centro-orientale. Un minimo depressionario è presente sul Mediterraneo orientale. In Toscana lunedì 1 luglio, cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli di brezza, mari calmi, temperature pressoché stazionarie, un lieve calo comunque superiori alle medie. Cielo sereno poco nuvoloso su tutto il territorio provinciale, a Lucca e nella Piana, temperatura minima 18, massima 33 gradi, a Castelnove e zone montane minima 15, massima 36, a Viareggio e sul litorale minima 20, massima 29 gradi.